Un saluto a Gossip News da Laura Chiatti, ciao! In realtà mi somigliano tutti i personaggi che interpreto, forse per qualcosa di nato, forse perché magari avvicinandomi io ai miei personaggi mi sembra automaticamente che mi somiglino. E questo personaggio mi somiglia molto più tosta e forte apparentemente di quella che sono io. Però ha delle fragilità. Però ha delle grandi fragilità. Io le esterno molto di più e lei invece se le tiene più nascoste. Però è un personaggio molto bello perché appunto non è scontato. Io amo identificarlo come una ragazza attuale dei giorni nostri. E quindi mi sono ispirata a tutte le persone che osservo, ho colto problemi di quotidianità che hanno tutti e ho cercato di dare appunto una mia personalità per supportare questo personaggio. Lei è complicata perché insomma all'inizio la vedremo incontrarsi con questa assistente sociale. non si capirà proprio il perché, insomma forse può essere, non so, si può pensare alla tossicodipendenza piuttosto che a una ragazza con dei problemi mentali. Invece è solo una ragazza che ha avuto un trascorso, un passato difficile, che sta cercando di recuperare e di riemergere.